Qui ci troviamo nei territori dove abbiamo tutta la coltivazione di agricoltura biologica. Damanhur ha diverse cooperative, una di queste è la cooperativa agricola, si chiama la cooperativa agricola punto verde, e appunto si occupa di tutto quello che è l'autosufficienza alimentare biologica, che viene poi distribuita attraverso la Dabba Dolcrea dove esiste un centro di distribuzione di prodotti biologici. Qui ci sono quasi un centinaio di ettari agricoli che ci consentono, agricoli e boschivo che consentono a questa famiglia che appunto abita in questo luogo, sia di poter avere un'autosufficienza energetica, quindi tutto il riscaldamento di tutto l'anno della loro casa, coperto da quella che è la naturale pulizia che loro fanno nei boschi qui intorno, sia di poter avere grossa parte di quella che è la nostra alimentazione biologica qui accorpata. Esistono 50 più famiglie di api, le api sono su tutto il territorio, le potete vedere qua in lontananza, le api sono importantissime per il mantenimento dell'ecosistema, per l'impollinazione naturale. In ogni comunità esistono alveari di api e in maniera artigianale e familiare facciamo anche tutte le sostanze preziose come il propoli eccetera.